Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono JJRM190F1 Oggi, l'11 settembre 2018, a 40 anni esalta dalla sua morte, parliamo di questo pilota qui Ossia Ronnie Peterson Pilota molto amato dai tifosi in quanto per la sua morte è diventato un po' una leggenda Secondo alcuni uno dei migliori piloti e non è mai vinto il mondiale Questo video vuole essere l'inizio di una nuova serie che si basa sul fatto che ho appena ripreso a rifare i video Dopo che praticamente non ne ho fatti per tutta l'estate E vuole essere il primo di una lunga serie Ronnie Peterson nasce a Orebro in Svezia nel 1944 Comincia subito a correre nei kart, ma successivamente scala presto le classifiche Arrivando a vincere nel 1968 e nel 1969 la Formula 3 e nel 1970 la Formula 2 E diventando uno dei giovani più promettenti dell'epoca Nel 70 debutta anche in Formula 1 con la Marche, ma ottiene scarsissimi risultati Invece nel 71, nonostante continui a correre con la Marche, è l'anno della consacrazione Ottiene 4 secondi posti e un terzo posto, sfiorando anche la vittoria per un centesimo di secondo in Italia Nonostante non ottiene il punto vittoria, ottiene il secondo posto finale nel mondiale Tanto che lo fanno diventare uno dei migliori giovani talentuosi Nel 72 sembrerebbe essere l'anno della consacrazione, ma ottiene solo un terzo posto Vista la scarsa competitività della Marche, ma nel 73 viene comunque ingaggiato dalla Lotus Come secondo pilota a Emerson Fittipaldi, che era campione del mondo in carica La Lotus era una grande auto, tanto che Ronny ottenne 4 vittorie In Francia, Italia, Austria e Stati Uniti Ma non riuscì a battere il suo compagno Fittipaldi Solo perché nelle prime gare ottenne dei ritiri Che gli fecero perdere molto in classifica Continua a correre nella Lotus anche nel 74 e nel 75 Nel 74 ottenne solo 3 vittorie, visto che l'auto era sempre la stessa ed era in netto declino Nel 75 addirittura non ottenne nessuna vittoria e scarsissimi risultati Visto che l'auto era la stessa da oramai 6 anni Quindi nel 76 dopo aver corso le prime gare con la Lotus Con ancora l'auto vecchia Con risultati pessimi Andò a correre con la Marche Tornando appunto a questa scuderia Ma nemmeno la Marche riuscì a ottenere quei risultati che si aspettava Ottenendo solo una vittoria in Italia E null'altro Accordandosi nel 77 alla Tyrell Che però anche essa non deluse le aspettative del pilota svedese Finalmente nel 78 tornò alla Lotus Che a quel momento era l'auto più forte E tutti pensavano una vittoria del mondiale di Ronny Peterson Che però aveva un contratto da secondo pilota dietro a Mario Andretti L'auto effettivamente vinse molte gare Tra l'altro Ronny ne ottenne anche due vittorie Ma essendo secondo pilota Spesso nonostante fosse superiore a Mario Dovette stare secondo per gli ordini di scuderia Si arrivò quindi al Gran Premio d'Italia Terzo ultimo della stagione qui Mario Andretti Dove Ronny era secondo in classifica Ed era l'unico che poteva battere ancora Andretti Ma alla partenza per un errore dello starter Che dietro la partenza troppo presto Quando ancora gli ultimi piloti delle ultime file Se non erano ancora fermati Alla prima variante ci fu una grave carambola Dove molti piloti rimasero coinvolti E Ronny Peterson andò a sbattere contro le barriere E la sua auto prese fuoco Nonostante i pompieri furono molto veloci A spegnere l'incegno Tanto che da quel momento vennero soprannominati i leoni I soccorsi veri e propri arrivarono molto in ritardo Tanto che Ronny Peterson venne estratto tardivamente dalla vettura Anche perché era stata data la priorità a Vittorio Brambilla Che era rimasto in coma dopo quell'incidente E si ritrovò con delle gravissime fratture alle gambe Che qui oscuro per motivi di igiene Cioè non di igiene Che non voglio far vedere brutte immagini nei miei video Nonostante fosse cosciente Arrivò in ospedale Ma il giorno dopo morì Per un'embolia Mentre invece Brambilla comunque si riprese E morì appunto l'11 settembre Purtroppo la sua morte scosse molto l'automobilismo Il compagno Andretti Proprio per la morte di Ronny Peterson Non potesse essere più raggiunto nel mondiale E appunto vinse il mondiale Peterson che aveva già firmato un contratto per il 1979 Con la McLaren Dato che alla Lotus si era altamente stufato di fare la seconda guida Verrà ricordato fino ad oggi Come uno dei piloti più sfortunati di sempre E diventò un po' una leggenda Dopo la sua morte Come molti altri piloti che morirono in Formula 1 E con questo video Che termina qui Ho voluto appunto ricordare questo grandissimo pilota Vi invito a iscrivervi al canale Mettere un piace al video e commentarlo Spero di portarvi altri video simili in futuro E vi ringrazio per la visione Ciao ragazzi